Anticipazioni Beautiful, trama puntate, domenica 17 ottobre 2021. Quinn spinge Shauna ad agire prima che sia troppo tardi. Deve sposare Ridge subito. È il momento giusto. Brooke e Donna sono felici quando apprendono che Steffi riceverà un aiuto professionale per uscire dalla dipendenza in cui è caduta. Zoe entra e si unisce alla conversazione. Viene a conoscenza anche del matrimonio a Las Vegas tra Ridge e Shauna e del fatto che lo stilista fosse ubriaco. Il discorso poi si sposta sulla vicenda dello scambio di culle ormai risolta. Brooke le ricorda quello che ha fatto a Beth. La modella esprime tutto il suo dispiacere nell'essere rimasta coinvolta nelle bugie di Reese. La Logan con un dolce sorriso afferma di credere nel suo pentimento e ritiene che sia giusto il momento di guardare oltre. A un tratto arriva Ridge che Fredda Brooke con una notizia sciocca sposerà Shauna il giorno successivo. Grazie a tutti.